un forte abbraccio grazie per il rapporto autentico e professionale con il quale abbiamo collaborato grazie alla Polizia Municipale, al suo Comandante, per le numerosissime sinergie intrapresi questa entusiasmante attraversata non sono mancati però momenti in cui la navigazione è risultata particolarmente difficoltosa e soggetta a malusi, ma devo dire che non vi è stato un solo attimo in cui mi sia mancata la piena fiducia e il forte sostegno del signor direttore marittimo, ammiraglio Arturo Faraune, che presiede l'odierna cerimonia grazie 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 grazie